Resta ancora oscuro il movente dell'omicidio che si è consumato nella notte tra mercoledì e giovedì a Sinalunga in provincia di Siena, dove Giulio Sale, un pastore sardo ma residente da tempo in un casolare di Foiana, avrebbe ucciso con un colpo alla nuca un 22enne di origini albanesi, ma emergono contorni sempre più inquietanti sulla vicenda. I carabinieri della compagnia di Montepulciano hanno infatti interrogato a lungo un altro giovane albanese che nella notte dell'omicidio stava ospitando la vittima in casa sua ed emerso che il pastore sardo aveva aggredito anche lui sei mesi fa a coltellate, ma l'episodio non sarebbe stato denunciato alle forze dell'ordine, non esisterebbe un referto medico di confronto. La notte del delitto Giulio Sale ha percorso 8 chilometri a piedi per dirigersi a Sinalunga, forse alla ricerca di un chiarimento. I militari dell'arma intanto ieri hanno passato al setaccio l'abitazione del presunto omicida, con l'intento di trovare elementi utili per chiarire il movente. Il 45enne è ancora ricoverato all'ospedale delle Scott e piantonato dai carabinieri. Nella sua disperata fuga a piedi verso Foiano è infatti caduto in un burrone, rompendosi una gamba e le costole. L'arma del delitto è stata ritrovata dai carabinieri ieri mattina in mezzo a De Rovi. Stando a quanto raccontato dal presunto omicida, destrare la pistola sarebbe stato proprio la giovane vittima. A quel punto sarebbe scaturita una colluttazione durante la quale il 45enne si è impossessato dell'arma e ha sparato. Sulla pistola è stata disposta una perizia.